Amici di Unibet, torna la Coppa Italia. La semifinale è il derby della capitale, un match tanto atteso tra i tifosi biancocelesti. Un derby che sulla carta sembra scontato perché la Lazio non vive un momento felice contro l'Udinese. Non è stata una partita straordinaria, anzi è stata sbloccata soltanto con un calcio di rigore. La Roma invece va a mille, la Roma ha dimostrato contro l'Inter di stare bene e soprattutto di vivere un momento di forma straordinario. Il derby è una partita particolare, spesso è in grado di far ribaltare i pronostici, il cuore e il sentimento propende per la Lazio, ma la ragione in questo caso ci porta a fare valutazioni diverse. La speranza per i tifosi biancocelesti è quella di riuscire a sorvertire i pronostici e magari pensare anche nell'ottica dei 180 minuti, perché è un derby di Coppa Italia e quindi può accadere di tutto anche in vista del match di ritorno. Il consiglio è di giocarsi l'under, perché? Perché nei derby difficilmente si segnano tanti gol, perché essendo una partita tra l'altro che verrà giocata anche in previsione del match di ritorno, potrebbe essere una gara con poche emozioni e pochi gol. Vedremo, alla prossima!